Cosa ha fatto la partita? Sappiamo che non abbiamo fatto una buona partita, ma anche è vero che abbiamo avuto delle opportunità e non abbiamo fatto gol. Questo ha cambiato un po' il trascorso della partita. Allora, sappiamo che dobbiamo fare quello che abbiamo fatto fino adesso, giocare bene, dare sempre il 100% e non molare. Non molare perché abbiamo una squadra forte, abbiamo delle qualità, lo sappiamo. E continuare lavorando ogni settimana, lavorare bene e dopo tutto arriverà. La Cunstrasse in Bern è vero, è vero che è un altro spazio e che è molto spazio. La Cunstrasse in Bern è vero, è vero che la Cunstrasse in Bern è vero. Questo è molto bello perché i tifosi sempre ci portano durante la partita quando ci sono dei momenti difficili. E sappiamo che i nostri tifosi sono top. La curva soprattutto, ma anche tutti gli altri che vengono in ogni partita che giochiamo fuori di casa. E allora, solo dare le grazie perché sono veramente top. E continuare così, continuare insieme. La squadra, lo staff, il club con i tifosi. E essere un club, essere una società bella e una società top. E continuare così. La Cunstrasse in Zare e la Cunstrasse in Berlusconi è sicuramente in cui veloce tutti i postuloni. Tutti la facoltà, anche se se si è venuto. La Cunstrasse in Badella è sicuramente un'esemorandona. La Cunstrasse in Europa è ottimale. E' sicuramente fatica la scuola in una volta del Champions ourselves. E' sicuramente in cui è assolutamente un'escalante. E' sicuramenteihin di anche alla Cunstrasse in feita quando ci sono staturi. Grazie per la visione!